Lanciare in un momento complicato di congiuntura economica è una sfida ma sono le sfide imprenditoriali che servono per rilanciare l'economia del nostro territorio. L'amministrazione Marino ha ben chiaro quali siano le problematiche legate alla logistica, al mondo dei trasporti e anche consapevole che fare di Roma una città più accogliente, più accessibile è un elemento assolutamente essenziale per rilanciare la competitività del nostro territorio. Noi come primo atto significativo abbiamo elaborato una nuova proposta di piano generale del traffico che mira ad un rilancio del trasporto pubblico, mira a una riduzione della mobilità privata ma non è un piano talebano, nel senso che noi vogliamo far circolare meglio e un maggior numero di persone. Ovviamente dobbiamo cercare di evitare che su alcune zone pregiate del nostro territorio come per esempio il centro storico che hanno una valenza storico-artistica importante che sono un polmone economico per tutto ciò che riguarda il turismo, il commercio e l'artigianato queste attività possono poi consigliarsi con un modo di vivere quelle zone della città più compatibile e più produttive e più utile.